A Padova tutto è pronto per iniziare le riprese di una fiction dedicata alla sua serie di romanzi dell'Alligatore. Nel frattempo lo scrittore padovano Massimo Carlotto presenta il suo ultimo libro La Signora del Martedì che uscirà il 22 gennaio. Un noir diverso dal solito ambientato però sempre in un paesino immaginario del nord Italia con personaggi che entrano nella trama del mistero solo ed esclusivamente per caso. Una storia che pensa di più agli effetti colaterali del crimine e poi non è un gran crimine. Insomma sono piccole cose che succedono ma anche poi hanno un effetto a cascata. Ma questa volta Carlotto ha deciso di raccontare la sua storia anche dal punto di vista dei giornalisti e dei moderni social network. Questo romanzo si occupa della relazione tra il mondo del giornalismo e i social e spesso questa comunione non è virtuosa. Secondo me il vero problema è che i social non devono né guidare né comandare ma deve essere esattamente il contrario cioè su un ruolo autorevo della stampa da una parte e poi soprattutto i social non devono influenzare. Oggi viviamo situazioni in cui i social sono perfettamente in grado di condizionare situazioni molto spesso legate la cronaca nera. Carlotto partendo da Padova si prepara a presentare il libro anche a Mestre, Verona e nel Trevigiano. Nelle prossime settimane intanto a Padova inizieranno le riprese che dureranno cinque settimane. I casting hanno già selezionato 700 comparse che verranno impiegate nelle riprese della serie tv. Credo che sia la prima volta che a Padova si gira una serie tv e credo che sia all'inizio di una proficua collaborazione tra televisione e città.